Sono Claudio Mori della Fondazione Consoli e Certi Diritti è l'associazione alla quale consiglio sinceramente di iscriversi. C'è molto da fare e ci sono molte battaglie che ci riguardano, sono battaglie per i diritti, per certi diritti e anche tutti i diritti, non solo quelli che riguardano i gay come me ma anche altre persone che magari non sono state trattate molto bene dentro le carceri, magari vedete un po' voi.